A Terni c'era una strana attesa e una fatalità. Ci chiudevano dicendo ma noi non ci trovano. Il problema dei bombardamenti non era mai apparso, si diceva che a Terni non l'avrebbero trovato. E poi giù, scade Arzio un inferno, un inferno. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS